Qui ci sono dei chioschi che come nel caso di quello in cui stiamo parlando che dovevano essere di 60 metri quadri e sono circa 10 volte superiori evidentemente si agisce ripristinando le condizioni di legalità cioè si abbatte con le ruspe tutto quello che è abusivo e che supera le dimensioni previste dall'assegnazione Qui si demoliscono gli abusi edilizie si ripristinano le condizioni previste dalla legge e lo stesso faremo con i varchi nel lungomare di Ostia abbiamo assunto degli impegni e li stiamo rispettando semplicemente si fa rispettare la legge Per i chioschi c'è una sospensiva tecnica del Consiglio di Stato che riguarda tre chioschi una scade oggi e le altre due scadono il 21 aprile appena scadono le sospensive procederemo come abbiamo proceduto oggi Ehi Ehi Grazie a tutti